...asilo, ma finiscono di essere trattenuti per 18 mesi all'interno di questi centri? Allora, fatevi i conti e alla fine vedete quanti saranno i migranti che resteranno qui. Sarà molta di più l'attività delle navi che riporteranno i migranti dall'Albania all'Italia rispetto a quelli che le porteranno in Albania. Tutto quello che avete visto oggi è un enorme spot elettorale. Grazie a tutti! Almeno questo ci è rimasto, almeno questo ci è rimasto. Avete fatto le vittime per un'ora senza rispondere a una domanda su come funziona la... Grazie, arrivederci! Presidente Meloni, eccoli! Bella roba! Bella roba! Bella roba! Or happy to come! Se ci siamo! Bene, se ci siamo! Almeno questo ci è rimasto! Almeno questo ci è rimasto! Avete fatto le vittime per un'ora senza rispondere a una domanda su come funziona la... Grazie a rivederci! Sì, 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 sì.